Buonasera, oggi do via a questa nuova rubrica sul canale, rubrica dal tema Conosciamo il mondo dei testimoni di Geova dall'interno, andando ad esaminare alcuni punti cardini. Una delle domande che mi è stata posta in questi giorni è se è vero che i testimoni di Geova vietino l'istruzione secolare. No, i testimoni di Geova non vietano l'istruzione secolare, ma inducono a fare in modo che uno non la persegua. Cioè, esplicitamente i testimoni di Geova non dicono tu non devi studiare, ma in maniera indiretta l'organizzazione dei testimoni di Geova ti induce a non andare avanti negli studi. Per fare questo, per dimostrare quello che sto dicendo, esaminerò insieme a voi i consigli che loro danno all'interno della loro organizzazione. Come considerano l'istruzione i testimoni di Geova? Questo la si trova online sul sito loro, su domande frequenti sui testimoni di Geova, a pagina 58. e notate cosa dice, notate in modo subdolo in cui si induce un credente di questa religione a valutare in senso negativo l'istruzione secolare. E' necessario avere un punto di vista obiettivo sull'istruzione. Loro dicono, notate la furbizia già di questo titolo. E' necessario, esamuiamolo punto punto, è necessario. Quindi è importante, prima che tu decida di andare avanti con la scuola, avere un punto di vista obiettivo, cioè ragionato. Cioè come sia ti stanno dicendo, non ti vietiamo, non ti vietiamo di andare avanti con gli studi. Però sappi che devi avere un obiettivo, un punto di vista obiettivo. punto di vista che non, sulla bilancia non vati, tutto sul lato studio. E ti diciamo, no, qual è il punto di vista obiettivo. Dicono loro. E notate infatti cosa dice. Valutiamo con attenzione i vari tipi di istruzione disponibili. La Bibbia dice, l'ingenuo crede che a tutto ciò che gli viene detto, ma l'accorto valuta ogni suo passo. E quindi iniziano a toccare, no quasi? Sei imbecilla. Se hai deciso di intraprendere la carriera scolastica. Non sei accorto. Non hai valutato. Sei uno stupido. Sei un ingenuo. Infatti, facendoci guidare da questo principio, valutiamo con attenzione i percorsi di istruzione e post-diploma disponibili. Inclusi addirittura iniziano a fare poi, inclusi i costi e l'utilità di ciascuno. Cioè iniziano a mettere le mani in tasca addirittura ai propri adepti. Ad esempio, i corsi per la formazione professionale spesso presentano una buona offerta formativa a fronte di un ragionevole investimento di tempo e di denaro. Se tu sei bravo con la scuola, fregatene, vatti a fare un corso professionale, trovati una professione. Magari puoi diventare avvocato o puoi andare in università. No, vatti a fare un corso professionale. Perché è più ragionevole. Ripeto, loro insegnano che l'istruzione spirituale ha un'importanza maggiore rispetto a quella scolastica. La teocrazia è più importante per loro. A differenza dell'istruzione scolastica, l'istruzione spirituale basata sulla Bibbia permette di conoscere Dio. E questa conoscenza ha il potere di salvare la vita. Zagnate. Oh, e tu vuoi andare avanti con la scuola? Ti allontani da Dio, non puoi conoscere Dio. L'istruzione scolastica ti allontana da Dio. Soltanto quella spirituale, quello che offriamo noi, ti garantisce la salvezza. Apro la parentesi e leggo quello che dicono dopo. Inoltre, attraverso l'istruzione spirituale, si acquisiscono valori morali. Cioè quello che è giusto, retto ed equo, l'intero sentiero del bene. Come se a scuola non si acquisiscono valori morali. Come se a scuola invece i valori morali vengono meno. E questo lo vedremo più avanti. Lo vedremo. Infatti, il paragrafo subito dopo ha come titolo «Possibili pericoli sul piano morale e spirituale dell'istruzione universitaria». Ripeto, possibili pericoli sul piano morale e spirituale dell'istruzione universitaria. Un proverbio biblico dice «l'accorto vede il pericolo e si nasconde». Ancora una volta. Vedi che qui dicono, vedi che noi ti stiamo dicendo che c'è un pericolo se vai all'università. Se ti nascondi, se scappi da questo pericolo, sei una persona intelligente. Se non lo fai e vai all'università, sei un deficiente. È sottointeso in questo paragrafo. I testimoni di Geova ritengono che l'ambiente di alcune università o di istituti simili nasconda pericoli sul piano morale e spirituale. Per questo motivo, molti di loro decidono di non esporre se stessi o i propri figli a un ambiente di questo tipo. Dove, tra l'altro, vengono spesso promosse idee errate come quelle che seguono. E quali sarebbero ste idee errate che si ricevono all'università? Idea errata. I soldi garantiscono un futuro felice e stabile. Infatti, non abbiamo bisogno dei soldi. Spesso si pensa che un'istruzione universitaria garantisca un lavoro ben ritribuito. Quindi, sempre più studenti frequentano l'università, principalmente con lo scopo o l'obiettivo di arricchirsi. Alcuni sperano di assicurarsi un futuro felice e stabile grazie al denaro. Pensare questo è errato, eh? Quindi, cercarsi di costruire una posizione favorevole all'interno della società, di garantirsi un futuro. Per i testimoni di Geova è sbagliato. È un'idea errata. Infatti, di nuovo, il punto 2. Idea errata. Ci dovrebbe aspirare al prestigio o alla posizione elevata che l'istruzione universitaria può garantire. Questa è un'idea errata. A proposito di un'irrea diffusa il suo paese, Nika G. Lauri, un ex primo ministro georgiano, ha scritto Notate questi qui poi estrapolano le frasi Avere una laurea è considerata uno stato simbolo, quasi obbligatorio in Georgia. Nel passato, un giovane che non si laureava era una disgrazia per la sua famiglia. Contrariamente a questo modo di pensare, la Bibbia avverte dei pericoli a cui va incontro che cerca di raggiungere fama e potere. Oh, eh, 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 se vuoi raggiungere la fama e il potere è pericoloso. Quindi è sbagliato. Non puoi. Infatti, notate che dice L'ambiente universitario potrebbe far sviluppare un atteggiamento superbo. Che Dio odia. Altra idea errata, secondo loro, secondo i testimoni di Geova. Ognuno deve decidere per sé cosa è giusta e cosa è sbagliata. Non sia mai che devi decidere tu se andare all'università oppure no. No, no, è sbagliato. È un'idea errata decidere da sé. I testimoni di Geova si conformano alle norme stabilite da Dio su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Stando però un articolo pubblicato da Journal, molti studenti universitari vengono spinti da loro colleghi a prendere decisioni che sono contrarie a quello che sanno essere giusto o sbagliato. Questa dichiarazione trova conferma nel principio biblico che dice Le cantive compagnia corrompono le utili abitudini. Spesso, nell'ambiente universitario, sono comuni e vengono perfino incoraggiati comportamenti che Dio disapprova. Notate come vanno? Notate. E qui voglio farvi vedere come dipingono l'università, i testimoni di Geova. Per loro l'università è un luogo in cui ti ritrovi per umbriacarti, fare uso di droghe e fare sesso tra persone non sposate. Lo dice pagina 58 dell'articolo che trovate sul loro sito, domande frequenti sui testimoni di Geova. Lo dicono loro. Ed è errata ancora. L'istruzione universitaria è la chiave per migliorare la società. Quindi, stanno dicendo, lo studio non migliora la società. Riconosciamo che molti non considerano l'istruzione tipo universitaria un mezzo per ottenere ricchezza. Notate, adesso ammorbidiscono i toni. Molti non lo considerano, non vanno all'università. A differenza di quello che dicevamo prima, adesso ammorbidiamo i toni. C'è chi va all'università per altro, no? Non va all'università per piaceri illeciti, per drogarsi, per umbriacarsi, o per avere una posizione di successo. Ma va per migliorare se stessi e la società. Notate. E poi, sempre come caramellina, usano il termine dolce. Questo è sicuramente un obiettivo nobile. Ma i testimoni di Geova hanno deciso di raggiungerlo in un altro modo. Non devi andare all'università. Non devi studiare. Notate in che modo vogliono raggiungere una società migliore. Seguendo l'esempio che ci ha lasciato Gesù e parliamo, notate subito, della buona notizia del Regno. In tutta la terra aiutata, aiutando così centinaia, migliaia di persone, ogni anno a cambiare la loro vita in meglio. In questa disamina di tredici minuti, ho voluto farvi vedere realmente il mondo dei testimoni di Geova e farvi conoscere il loro punto di vista sull'istruzione. Loro sono furbi. Loro non vietano. Però per un testimone di Geova giovane, che è all'interno dell'organizzazione, leggere quanto c'è da scritto qui, quanto vi ho fatto conoscere, è un'induzione a non studiare. È un'induzione ad abbandonare i studi. Perché? Perché per loro viene tutto, tutto demonizzato. Tutto demonizzato. Cioè, basta vedere che considerano l'università un luogo di ritrovo, di tossicodipendenti, di ubriachi, di orge, addirittura. E si vede il concetto errato che hanno sui studi. Il concetto errato che poi viene trasmesso alle famiglie. E quando un genitore sente che magari il proprio figlio vuole intraprendere una carriera universitaria, un genitore testimone di Geova, inizia a mettere il bastone tra le ruote. Perché? Perché ricevendo quelle informazioni inizia a preoccuparsi dal fatto che il figlio si allontanerà dall'organizzazione. E il fatto che il figlio si allontana dall'organizzazione, che succede? Che se il figlio è battezzato poi viene disassociato. E quindi a quel punto bisogna tagliare i rapporti. E quindi inizia una crisi di panico per il genitore che sente che il figlio vuole intraprendere una cultura universitaria. Questo è il punto di vista che hanno i testimoni di Geova sull'organizzazione. I testimoni di Geova scoraggiano la cultura, scoraggiano i studi. Questa è la prima parte di questo video, di questa rubrica. Conosciamo il mondo dei testimoni di Geova. Vi farò vedere altri punti, altri punti, altri aspetti di questa organizzazione. Ciao a tutti e se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un commento, un like e a condividerlo sulle vostre pagine. Ci vediamo presto.